L'annunciato sciopero dei lavoratori delle imprese di pulizia aderenti al sindacato Sul in servizio presso l'ospedale Spock di Polistana, dopo un'infocata assemblea, hanno proclamato lo stato di agitazione per il 19 ottobre. I lavoratori, ormai stanchi dei continui ritardi nei pagamenti degli stipendi, hanno fatto sentire forte il loro grido di dolore e il loro disagio. Giuseppe Gentile, segretario regionale del settore pubblico impiego del Sul, facendosi portavoce della forte protesta dei lavoratori, ha affermato che si tratta di una protesta volta a mettere la parola fine alle tante ingiustizie sociali che hanno colpito questi lavoratori e un pezzo importante di sanità pubblica come l'ospedale di Polistana. Le questioni principali sono due. La prima riguarda la consuetudine di pagare il ritardo agli stipendi. La seconda è quella che giace da mesi sul tavolo della direzione amministrativa dell'ASP di Reggio Calabria, concernente il taglio indiscriminato delle ore lavorative, attuato soltanto agli operai in servizio presso l'ospedale Spock di Polistana. Non è la prima volta, fa notare il sindacalista, che l'ASP paga in ritardo, ma in questa occasione ha superato il limite perché ci troviamo a 95 giorni data fattura. Stiamo parlando, aggiunge ancora il sindacalista, delle fatture del mese di giugno e questi soldi servono per pagare lo stipendio del mese di agosto che doveva essere già liquidato entro il 20 settembre.